Mailboxis a Cava dei Tirreli, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Con la giudica dell'appalto si è conclusa la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente Ibeido Longo, che ha ottenuto un importante finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Vistoria 5, Componente 2, Investimento, Subinvestimento 3.1, Sport e Inclusione Sociale, ad aggiudicarsi l'appalto Lavangone SRL. Per un totale complessivo di 1.563.000 euro, al netto del ribasso e compreso onere di Iva. E tra i prossimi mesi di aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto con un annesso spogliatoio sull'area dei ex prefabbricati di Ibeido Longo, alla località Santa Arcangelo, dove esiste anche la nuova tezzostruttura del Palapittoni. Il nuovo impianto ospiterà tre discipline sportive, in particolare un campo da paddle, un campo da pallavolo, una pedala per la scherma e un'area libera destinata all'asvolgimento di altre discipline, tra le quali ping pong, biliardo ed altre, ed uno spogliatoio con relativi servizi gerici. Come spiegato dal vice sindaco con delega lavori pubblici, Luzio Seratore, l'area di Via Ido Longo diventerà un nuovo centro sportivo con due strutture moderne che incrementeranno e miglioreranno l'offerta di impiantistica sportiva della città e che si sta lavorando per ricercare ulteriori fonti di finanziamento per adeguare e potenziare gli altri impianti esistenti.